Ben trovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia, siamo ancora tutti scossi per la vicenda che ha visto protagonista Palermo, suo malgrado per la violenza di gruppo che è avvenuta quest'estate al Foritalico, ci sono stati arresti, ci sono indagini tuttora in corso, c'è una città abbastanza scossa da quanto successo e quindi noi cerchiamo di approfondire in questo spazio appunto questo tema e oggi lo facciamo con un ospite che fa parte, è inserito all'interno di una rete ben precisa che assiste le vittime appunto di violenza sessuale, ve lo presento subito, è Manfredi Rubino, salve, appunto che è medico legale dell'Istituto di Medicina Legale di Paolo Giacone, Policlinico di Palermo, parliamo con lui perché i medici del Policlinico, proprio quelli appunto di Medicina Legale, sono deputati, sono i primi che vengono diciamo contattati quando una vittima si presenta appunto, ha subito violenza sessuale e si presenta al Policlinico, perché il Policlinico ce lo spiegherà lui, così cominciamo appunto questa chiacchierata. Allora, come mai proprio al Policlinico diciamo? Sì, il Policlinico sostanzialmente ha un reparto di ginecologia ostetricia, all'interno del reparto di ginecologia ostetricia è stato realizzato il pronto soccorso ostetrico-ginecologico, dove afferiscono tutti i casi di violenza sessuale segnalati nel nostro Comì, nel provincio di Palermo. Pertanto i vari pronto soccorsi sono informati del fatto che quando vi faccio esso una donna che asserisce di essere stata oggetto di un abuso sessuale, si dà il via all'attivazione di questa rete. Da che è composta questa rete? Esatto, la rete è composta dalla Polizia, quindi dalla Polizia giudiziaria che assume le prime informazioni dalla vittima, dopodiché da un lato ovviamente viene informato il pubblico ministero che attiverà quello che è il codice rosso, che è caratterizzato da una serie procedure che da un lato cercano di rendere quanto più snella possibile l'attività di indagine, per esempio la donna che è stata d'abuso di soggetto di abuso deve essere sentita dal PM non oltre tre giorni dall'epoca in cui ha riferito di avere subito l'abuso, proprio per evitare che si perdano delle notizie e degli elementi importanti per l'indagine. La donna viene trasferita con l'APG se l'APG ha avuto notizia, se non spontaneamente si presenta verso il pronto soccorso di vivenzio sessuali che è all'interno dell'istituto di estetrice ginecologia e il Policlinico. Lì si attiva la catena medica, nel senso che viene accolta dal ginecologo di turno e dall'ostetrico e in seconda battuta veniamo chiamati noi a intervenire. Dovete certificare, la donna viene sottoposta a una serie di certamenti che sono abbastanza delicati e qua si ha il primo impatto con la donna oggetto di abuso. Allora possiamo innanzitutto tranquillizzare chi è che, dico purtroppo, le vittime diciamo che si dovrebbero appunto rivolgere, si dovessero rivolgere appunto a voi. E quindi, dico, tutto questo avviene in un clima assolutamente sereno, tutto questo avviene in un clima accogliente. Noi cerchiamo di svolgere queste attività appunto consapevoli della condizione mentale della donna che si rivolge, che è un atteggiamento assolutamente di sconforto, molto spesso sono sotto shock e quindi dobbiamo utilizzare delle accortezze per cercare di guadagnare una fiducia, perché di fatto poi la donna che ha subito una violenza ha già riferito i fatti, spesso all'APG, ma deve riferirli anche a noi, soprattutto al medico legale, che cerca di capire, di estrapolare quelle che possono essere le congruenze o le congruenze rispetto ai fatti narrati e le lesioni che vengono riscontrate in capo alla vittima, perché ci sono delle lesioni accessorie che le donne, diciamo, oggetto di abuso possono riportare, che sono i senti per esempio di costrizione, quindi dell'ecchimosi a livello dei polsi, dell'ecchimosi a livello dei fianchi, e sono tutte notizie che devono essere coerenti poi con il racconto. Certamente, perché bisogna appunto... Bisogna collaborare alle fasi di indagini, ovviamente c'è un protocollo che viene rispettato che serve all'individuare e identificare l'abusante, e quindi si mette in atto un protocollo di accertamenti, che sono degli accertamenti particolari, che servono ad accertare la presenza di materiale biologico dell'abusante in capo alla donna, e agli abiti della donna, e questo viene fatto attraverso un protocollo molto preciso di raccolta e di analisi. Le lesioni vengono rappresentate attraverso delle immagini fotografiche che serviranno poi come prova, perché molto spesso queste sono delle lesioni superficiali, che col tempo tendono a sparire, per cui si cristallizzano con la fase di fotografia delle lesioni, la raccolta dei liquidi biologici serve per andare a fare delle indagini genetiche per individuare e fare un eventuale confronto con le ipotetici, diciamo, rei, e poi si fanno tutta una serie di accertamenti di antinatura infettivologica per andare a ricercare la presenza di malattie sessualmente trasmesse, quindi per tutelare la salute della donna, a prescindere dall'ipotesi del reato e dalla... Quindi tutto questo avviene assolutamente in un clima di collaborazione, sereno... Sicuramente c'è una collaborazione massima tra la medicina legale, cioè noi e la ginecologia ostetricia e con tutti... Che è un ambiente, diciamo, confortevole per la vittima che si trova, diciamo, a dover raccontare delle cose che non sono assolutamente... A ripercorrere gli eventi... E quindi immagino che ci sarà anche un sossegno psicologico, viene attivato tutta una serie appunto di... In prima battuta, diciamo che il sossegno psicologico lo diamo noi medici... Cerchiamo di compenetrare e di essere empatici nei confronti della vittima o di abuso. E poi c'è un percorso che può prevedere anche la possibilità che queste donne, ma questo ovviamente in collaborazione con noi e le notizie che noi riferiamo all'autorità giudizia, la possono essere messe per esempio nelle case famiglia, qualora per esempio l'abusante sia il compagno convivente, allora in quel caso per motivi di sicurezza e di indagine, la donna può fare questo percorso, quindi viene consegnata l'APG che poi si... Allora, avete fornito come policlinico proprio in questi giorni dei dati, ecco perché sono importanti, perché visto che avete il centro, diciamo appunto, dove ci sono tutti, dove c'è un aumento del 40% delle violenze sessuali rispetto all'anno passato, ma ci sono più violentatori o c'è una maggiore consapevolezza da parte delle vittime? Come si spiega questo dato? Allora, la consapevolezza da parte delle vittime sicuramente è maggiore rispetto agli anni passati, perché il problema fondamentale che è difficile da superare per una donna è il riferire ad altri una violenza subita di questa entità, senza il rischio, che è concreto, di passare da vittima a provocatrice, insomma avere dei sensi di colpa nei confronti dell'evento che è stato causato e molto spesso giustificano chi ha compiuto l'evento nelle maniere più diverse. L'abbiamo visto anche nell'ultimo caso, diciamo questo che è del fuoritalico, tanto per semplificare, dove il fatto stesso che la donna, che la giovane fosse ubriaca, che poi è stata fatta ubriacare, che si fosse incontrata con un gruppo di persone e poi abbiamo scoperto che invece l'appuntamento era con uno e con gli altri, tutta una serie di cose hanno portato a criticare appunto questa ragazza senza pensare minimamente che nessuno dovrebbe mai toccare una donna in nessun modo, in nessun caso, anche se la persona appunto, anche perché sappiamo bene che adesso diciamo è una colpa maggiore, sono aggravanti, quindi non è una giustificazione. Assolutamente no, indurre l'ubriachezza, uno stato di alterazione mentale in una donna, parlando del reato indispecie, o con le broche dello stupro, o con l'alcol, è un aggravante sicuramente e il codice penale, appunto per il costante riproporsi di femminicidi, violenza sessuale, ha modificato una parte dei delitti che lì prende in considerazione, inserendo quello che sono gli aggravanti per esempio nei casi di violenza sessuale con per esempio alterazioni del viso della donna a causa dell'azione dell'acido, ci sono le case di coronata in cui qualche anno fa il compagno di una donna, oltre ad averla violentata, l'ha poi sfregiata con l'utilizzo di acido sul volto e questo è un aggravante pesantissimo che permette di diciamo cercare di contrastare sotto l'aspetto da parte del legislatore di questo tipo di reato. Quindi questo 40% lo spieghiamo come? Con una maggiore consapevolezza o col fatto che effettivamente c'è questo aumento di violentatori? Il mio parere è quello che secondo me c'è una maggiore consapevolezza da parte della donna di poter fare qualcosa in queste circostanze e secondo me, mi sbaglierò ma non credo molto in questa cosa, è che l'esempio, quindi il giro che fanno le notizie sul web, su telegiornali, le donne che denunciano, i colpevoli che vengono processati e condannati, sta creando un flusso di pensiero che secondo me queste donne, le donne che sono vittime di abuso, in qualche maniera sfruttano per avere il coraggio di denunciare. Tutte denunciano? Non credo proprio, penso che ancora siano molto poche le donne che hanno il coraggio di denunciare. Soprattutto quelle palermitane? Diciamo che c'è una cultura nei confronti di questo argomento che sicuramente in Sicilia non aiuta a stimolare la denuncia, a portare avanti la denuncia, perché l'attività di che ho parlato poc'anzi, è un'attività che può essere o meno seguita da una denuncia. Certo. E molto spesso si nota che dopo questa attività non abbiamo più notizia da parte della PG, che significa che la donna non ha proceduto alla denuncia. E questo in quanti casi si verifica? Più del 50%. Più del 50%, quindi il 50% di persone che sono state refertate, che sono state accoltate alla rete, non hanno proseguito, diciamo appunto. D'altronde la nostra attività è anche quella di non spingere in un senso o nell'altro la volontà dell'interno. Esatto, cerchiamo di essere imparziali, comprensivi, ma il dato di fatto è che… Vabbè a voi vi spetta cristallizzare, curare, medicare e cristallizzare la situazione in modo tale da dare, diciamo, le possibilità di capire appunto cosa… E' in ausilio alle indagini. Esatto. L'esito, diciamo… Il resto è medicina legale, ecco perché entrate in gioco voi. Però mi diceva che c'erano stati alcuni casi, qua abbiamo avuto anche delle ragazze che abbiamo accolto in città, che venivano da altri paesi, con il progetto Erasmus, che loro malgrado, diciamo appunto, sono rimaste vittime. Io ricordo un fatto di cronaca che abbiamo seguito, di una ragazza che si è scesa da casa perché non prendeva il wifi, è arrivata quasi in centro a Palermo per mandare una mail, una cosa, ha incontrato uno ed è stata… in questo caso non c'era… non c'era alcol, non c'era nulla, diciamo, che potesse giustificare una cosa di questo genere, dico che non può giustificare mai assolutamente. Assolutamente, quindi non ci sono tutte queste cose che sono state raccontate per la vicenda del Foritari, che pure è successo e queste, queste ragazze che vengono fuori da lei invece hanno avuto un atteggiamento diverso. Assolutamente sì, erano personalmente seguito nel dettaglio perché, come dicevo, ci saranno parole in questo momento, c'è attività di indagine probabilmente su questi eventi, ma delle ragazze che facevano l'Erasmus qua a Palermo, purtroppo i luoghi dove sono avuti gli incontri o dove sono state approcciate dal violentatore sono dei rioni popolari, in parte perché probabilmente sono quei rioni in cui le turiste, essendo dei luoghi caratteristici, vanno a trovare dei locali, la movida e quindi sì, c'era una quantità superiore. Il dato che mi ha colpito è che tutte e tre queste ragazze di nazionalità non italiana non hanno avuto alcun, per quanto potessero essere colpite e affranti da quello che era successo, erano assolutamente lucide. e hanno avuto assolutamente la capacità, la carparbietà di portare avanti la visita certamente i medici collegali con pazienza, hanno avuto la pazienza di conferire e di riferire nei dettagli tutto quello che ricordavano e alla fine una di queste ragazze, non lo posso scordare, la PG ha chiesto se voleva andare a cambiarsi, a rinfrescarsi e ha risposto no, io non voglio rinfrescarmi assolutamente, noi ora andiamo e vi porto esattamente dove il mio aggressore, il mio aggressore, il mio aggressore dove è successo, in maniera assolutamente decisa e in tutti e tre i casi poi la PG è venuta a ritirare il materiale che noi abbiamo prelevato e quindi hanno proseguito appunto nella loro azione, quindi un problema anche culturale, è un problema da mio punto di vista sicuramente culturale, è quello che secondo me, e le donne palermitane da questo punto di vista, quella della provincia di Palermo visto che voi seguite queste ragazze, noi abbiamo questa esperienza, sicuramente non contro il marito, contro il compagno, difficilmente proseguono in questa... Questo sicuramente inibisce l'azione legale, ma c'è anche un problema strettamente e ahimè banalmente culturale, cioè una donna che è stata oggetto di violenza non ha soltanto quello che è il senso di colpa nei confronti del proprio aguzzino o del proprio violentatore, ma è anche il timore di essere additata, come se fosse una colpa, come donna violentata e abusata, quindi sottendendo forse una donna che non è proprio di... Cioè non ha una morale, diciamo, una morale... Esatto, e questo è un concetto radicato penso nella... Sì, l'abbiamo visto nei commenti, nelle cose, tutto quello che è stato detto a questa ragazza che ha subito violenza, dove praticamente per qualcuno era stata lei, diciamo... Il punto, la circostanza aggravante in questo caso è che probabilmente, io non sono all'interno di questa indagine per cui non so, però immagino che la somministrazione di alcol finalizzato poi ad avere una maggiore possibilità di accedere e di poter sottoporre a violenza sessuale, la donna potrebbe essere un'ipotesi, un aggravante ulteriore, a parte l'utilizzo di droghe dello stupro, che non sono in realtà tattici... La violenza sessuale però non è una cosa che riguarda solo alcuni ceti, alcuni ambiti... No. Non ha, diciamo... Riguarda, diciamo, abbastanza trasversale come... Sicuramente è trasversale, però ci sono delle remone da parte delle donne a denunciare proprio per le motivazioni di cui parlavamo prima. Quindi diciamo che la violenza sessuale avviene sia nei quartieri in che in quelli, diciamo, popolari. Assolutamente sì. Quindi non c'ha, diciamo... Sono dinamiche che esulano dallo stato, dalla visione economica... Visto che anche i femminicidi, abbiamo visto, i femminicidi sono assolutamente trasversali perché appunto non è l'ultimo proprio di questo periodo di Mazzara del Vallo, è assolutamente una... Sì, sono meccanismi che si vengono a instaurare malati all'interno di una coppia e questo può succedere in qualunque strato sociale e in qualunque condizione economica. L'invito è quello alle donne, perché sono le vittime fondamentalmente, è di comunque rivolgersi a qualcuno, diciamo in maniera molto chiaro, perché da queste cose diciamolo chiaro, non se ne esce, lui non cambierà se è ossessivo, se è geloso oltremodo, se ha tutta una serie di comportamenti che imprigionano la donna. Questo non è una persona, lo possiamo dire, è una persona che non cambia, che non ci sarà possibilità di... Assolutamente sì. direi purtroppo è una questione proprio di malattie in questo caso, dobbiamo dirlo, cioè è una patologia vera e propria. È un funzionamento della coppia, ma può anche essere un banale fattore culturale che interagisce, che nella mentalità di molti uomini prevede il fatto di poter assolutamente gestire e manipolare la propria compagna. Pertanto quando c'è un episodio... Come una cosa propria. L'episodio, sì, come se fosse un oggetto. Un oggetto. Il possesso e non l'amore. E quindi quando si trovano in queste situazioni le donne farebbero bene, diciamo, a rivolgersi. Sicuramente a qualcuno, questo poi diciamo, se è psicologo, se è un amico, se è... Un amico esterno professionalmente in grado. Se è un medico, dico appunto, quello sicuramente diciamo, perché è già un primo fatto di parlarne e comunque prenderne coscienza e prenderne consapevolezza. Sì, e può disinnescare nella coppia. E cosa può fare una donna? Venire lì al centro... Allora, il nostro, il pronuncio al corso per violenza sessuale funziona, come avevo già detto, in genere bisogna denunciare la violenza sessuale all'autorità giudiziaria. Ci sono tutta una serie di figure all'interno dell'arma dei carabinieri e della polizia che sono formate per la gestione. in maniera assolutamente professionale di queste donne. È dal punto di vista della gestione pratica, quindi di trasferirle presso il pronuncio al corso per violenza sessuale e successivamente alla gestione, perché non si ferma lì. È sotto l'aspetto psicologico, fanno dei corsi che li mettono le condizioni di ottimizzare l'approccio con delle donne che in quel momento sicuramente hanno una condizione psichica assolutamente alterata. E quindi l'invito appunto è quello di rivolgersi immediatamente, rivolgersi a denunciare e rivolgersi immediatamente ai professionisti per sia essi ormai carabinieri, polizia, medici per venire. Assolutamente sì, anche perché quando c'è un comportamento aggressivo in zona della coppia e all'interno della coppia questo aggiornamento aggressivo viene subito passivamente, si dà implicitamente l'autorizzazione a chi lo può in essere di continuare e se si realizza un crescendo non si parla più di violenze sessuali ma purtroppo spesso le polenze ci trovano davanti a un femminicidio o un femminicidio e il suicidio poi di chi l'ha realizzato, quindi bisogna denunciare immediatamente perché non sono condizioni che possono essere tollerabili intero nella coppia e che non portano sicura mannete a niente di positivo, se non si bloccano subito. Così per una coppia, così per le ragazzine che vanno a passare una serata per divertirsi, per passare una serata tranquilla e serena, immovida o qualunque cosa che trovate o capite che non è andata per il verso giusto va subito dichiarata, va subito denunciata per evitare appunto qualunque qualunque tipo di problema. Lei da medico che idea si è fatta di questa vicenda del fuoritalico? Così per chiudere diciamo... Ma diciamo che secondo me stigmatizza in maniera abbastanza eclatante, è un caso di cronaca raro, perché è una violenza sessuale che si è perpetrata all'esterno, quindi in un luogo pubblico, in una pubblica strada, sebbene appartati in una pubblica strada. Si è realizzato il branco, per cui all'interno di un branco ci si è gestato, colui il quale ha pianificato in parte o in totalmente la violenza, c'è una vittima del branco, la preda, che è la ragazzina, ora non so se la ragazzina aveva uno stato di psicoalterato perché ha bevuto o se è stata fatta bere artatamente in maniera tale da essere nelle condizioni di non poter reagire, o cercheranno gli inquirenti, ma sicuramente si è creato una condizione di branco e una preda, e il risultato è stato quello che abbiamo visto, con le tentativi di dissimulare il reato, con le minacce velate nei confronti della ragazza violentata che si avesse parlato, forse l'ipotesi che avesse denunciato, allora si avrebbe passato dai guai la parte… A momenti i guai la ne stanno passando i sette… Fortunatamente sì, fortunatamente sì, fortunatamente sì… Purtroppo anche le loro famiglie però, dico questo, le famiglie di questi sette ragazzi… Anche perché poi facendo un discorso un po' più ampio, in questo caso ovviamente è chiaro ed è intuitivo ed sarebbe assolutamente non corretto nei confronti di chi viene abusato a fare questa valutazione, però per esempio nelle cause in cui succedono, l'abusante e l'abusata sono minorenni, infradiciottenni, è difficile spesso, anzi si percepisce immediatamente questa fascia d'età, che chi abusa il 16enne, il 15enne, spesso e volentieri non ha i mezzi per comprendere che l'atto che ha compiuto, è posto in essere, è un reato, è ha compiuto un'enorme prevaricazione nei confronti della ragazza, quindi il problema è anche dal punto di vista, si affronta dal punto di vista educativo e formativo. E quindi le scuole diciamo. Le scuole sono il termometro fondamentale, oggi inizia l'anno scolastico, quindi sarebbe bene parlarne un poco di educazione sessuale, finalmente a scuola. Esatto, educazione sessuale e educazione civica. Esatto, sono le cose che mancano. Sono, guarda caso, le due cose che mancano e che permetterebbero di indirizzare i ragazzi dalla prima elementare all'ultimo anno di liceo e cominciare la dimestichezza con il linguaggio, la violenza sessuale, l'altosessuale, la vita di coppia, l'educazione civica, il rispetto dove finisce la nostra libertà comincia dalla libertà del prossimo, ma sono dei concetti e dobbiamo essere inculcati sin da giovanissimi. Allora, io ringrazio Manfredi Rubino che è stato con noi, avete visto, il tempo è davvero volato, tanti temi e tanti argomenti, sicuramente lo avremo ospite per altre puntate. E allora, quindi io vi ringrazio davvero tanto e vi auguro una buona giornata. Ciao!